E' la vittoria di una città e di un quartiere su un pregiudizio. Inaugurata ufficialmente questa mattina la nuova sede di Scampia dell'Università Federico II, oltre 600 studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia cominciano il loro percorso di studio per le professioni sanitarie. L'immagine che volevo darvi è quella di un giovane che prende la metropolitana per scendere a Scampia e risponde a chi mi chiede cosa vai a fare a Scampia, vado all'università, vado a studiare. Se questa costruzione è stata fatta, lo dico da ingegnere, mi consentite questa piccola divagazione è perché ci sono state delle maestranze che hanno lavorato, ci sono state delle imprese che hanno dato il loro contributo, ci sono stati dei tecnici che hanno dato la loro competenza, c'è stato un popolo di persone che ha voluto realizzare una cosa concreta. Realizzata dal Comune di Napoli, la struttura ha quattro piani riservati alla didattica, uno ai laboratori e due all'area clinica. Si svolgeranno qui anche i tirocini di laboratorio, quelli clinici in ambulatorio e quelli basati su realtà virtuale e aumentata. Benedici, questo luogo di formazione. Benedici i docenti che qui si impegneranno e tutto il personale che qui lavorerà. Sono molto contenta di fare quest'ultima uscita proprio qua a Scampia. In questo periodo ho vissuto molti luoghi di questa città, una città molto vivace, una città che può dare molto e che ovviamente ha delle difficoltà, ma ho sempre apprezzato l'aspetto innovativo, l'aspetto anche imprenditoriale, ho visto tante spin-off, tanti giovani veramente entusiasti a creare nuove opportunità. Napoli ha una grande capacità, una grande capacità molto più grande di quella che gli altri ci attribuiscono. Napoli può essere veramente un punto di riferimento per la ripartenza del Paese e lo deve fare partendo proprio da quei luoghi che oggi vengono definiti luoghi del disagio, ma che nella realtà sono i luoghi dell'opportunità. E noi lo dobbiamo dimostrare, lo dimostreremo e lo faremo. Grazie a Scampia e grazie a tutti noi. Grazie a tutti.